E' una statica politica che prende il video gioco adeguato in plasma, dove si parla di non... E' una statica politica che prende il video gioco adeguato in plasma, dove si parla di non... E' una statica politica che prende il video gioco adeguato in plasma. E' una statica politica che prende il video gioco adeguato in plasma, dove si parla di non... E' una statica politica che prende il video gioco adeguato in plasma, dove si parla di non... Grazie! Grazie!